Partiamo dall'ariete. Potete rivolgere la vostra attenzione a questioni pratiche e lavorative. Prendete in considerazione progetti lasciati in disparte. Amplificate il vostro raggio d'azione, recuperate vecchi debiti e accettate un lavoro extra. Toro, ritagliatevi un po' di tempo per sviluppare nuove strategie capaci di risolvere brillantemente alcune situazioni legate al lavoro. Ma di quante prove d'amore avete ancora bisogno? Gemelli, concentratevi su argomenti pratici come la gestione delle vostre finanze. Siate meticolosi e ordinati per ovviare il rischio di distrazioni ed errori. Poche le tracce di brio e dell'inventiva che in genere vi contraddistinguono. Cancro, siete più sereni. La famiglia torna a rilassarvi e la sentite come un rassicurante punto fermo. Se siete ancora single ma l'idea dei confetti vi tenta, invitate il partner e fategli la proposta che vi sta a cuore. Leone, se il lavoro non procede come dovrebbe, batti beccate con qualche collaboratore, non cedete al nervosismo, passate oltre. Vergine, alcuni compiti gravosi vi stanno mettendo sotto torchio ma in compenso non mancano le gratificazioni sia economiche che personali. Iniziative importanti, spese azzeccate per la casa e la famiglia. Avete una marcia in più oggi. Bilancia, una revisione attenta delle uscite allevierà i vostri eventuali problemi di ordine economico. Momento favorevole per l'accensione di un mutuo. Dovrete darvi da fare per sbrigare il lavoro arretrato. Scorpione, gestite con calma e senza affanno le vostre mansioni. Non buttatevi a corpo morto su ogni cosa. Le gratificazioni arriveranno inaspettatamente. Qualcuno cerca di seminare zizzagna nella coppia. Sagittario, approfittate del tempo libero per scappare dalla città alla scoperta di bellezze naturali, muniti di videocamera o macchina fotografica. Dimostrerete più calme e pazienza in famiglia creando così una bella atmosfera di complicità. Capricorno, intelligenza acuta e chiarezza espositiva favoriscono l'approccio a nuovi interessi. Possibili corsi di aggiornamento di qualificazione professionale. Clima affettivo e fervescente. Acquario, confusione, agitazione, insicurezza. Lo stato emotivo prende il sopravvento si fatti reali così perdete temporaneamente l'equilibrio. In amore non è giornata, meglio evitare gli incontri troppo ravvicinati. Pesci, bene le prove di esame e i colloqui di lavoro. La dialettica è brillante, incisiva e inoltre potete vantare una memoria di ferro. Nuovi incontri rendono omaggio al vostro charme regalandovi piacevoli emozioni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.